Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. Grande successo sabato 3 in occasione della cena di solidarietà organizzata dagli amici dell'Enfola, un pasto solidale e conviviale per manifestare la vicinanza elbana verso i fratelli del centro Italia. Colpiti dal devastante sisma, una manifestazione di solidarietà che ha coinvolto persone provenienti da tutta l'isola. Un plauso dunque agli amici dell'Enfola che hanno organizzato l'evento per non dimenticare in questo tragico momento tutte le persone del centro Italia che hanno visto la propria vita cambiare in pochissimi istanti. La cena affollata di ospiti ha voluto con un minuto di silenzio inviare una muta preghiera per le vittime del sisma. Gli amici dell'Enfola ringraziano di cuore la generosità dei partecipanti che ha permesso di inviare direttamente sul conto del comune di Amatrice la somma di 5.000 euro.